Ragazzi, ma qualcuno di voi si ricorda ancora questo gioco? Sub by Surf Naturalmente, regà, questo qui non è il mio primo account Perché io non entro, come avrete letto dal titolo Non entro su Sub by Surf da due anni E un account è andato proprio perso Allora, come potete vedere, ho 6 chiavi 6.630 monete, 11 skateboard E il mio record è 13.520 punti Lo so, regà, che è poco, ma è da mezz'ora che ci sto giocando Perciò è normale Non mi chiedete di fare la telecronaca per le prossime partite, regà Perché non posso farla Perché devo stare attento, insomma, a quello che accade Perciò non posso fare la telecronaca, non è stato un po' zitto E io direi di partire, regà Metterò questo video in premier, sicuramente Non so quando lo metterò perché, come avrete letto sotto nei commenti Dei video passati, non ho wifi Molte di voi già lo sapranno Una wifi dove sono io perché non sono a casa mia, sono in vacanza Appena tornerò dalla vacanza, apro wifi E potrò registrare in tranquillità E soprattutto potrò rispondere ai vostri commenti Qua intanto sono morto, un grande nabbo Eh dai Non fa nulla, non fa nulla È da poco che ci sto giocando perciò è normale Non mi scrivete sotto nei commenti nabbo Cioè potete scherzare su ste cose Però non esagerate Ok regà A parte che ho il telefono scarico Quindi non so se reggerà Vai andiamo avanti Ok Il mio record regà Ve l'ho ripetuto prima È di 13.000 punti Perciò è pochissimo Vai di bottiglia Sono 9 su 10 Dovrebbe arrivare la ricompensa tra poco Magari se me ne date un'altra di bottiglia Una ogni quarto d'ora arriva Vai regà Sento che questa partita andrà bene Lo so Me lo sento Me lo sento Vai Ecco questa qui La parte dei treni è parecchio difficile Parecchio difficile Soprattutto per me che ho iniziato da poco Insomma Sono due anni che non gioco a sto gioco Poi ragazzi Casomai farò un altro episodio su Clash Royale Non entro su Clash Royale da Quattro anni Da quando è uscito in pratica non c'entro Ok Intanto è finito il moltiplicatore per 6 Ecco qui morirò sicuramente Perché muoio sempre così Le stelle regà preferiscono non prenderle La partita di prima ve l'ho tagliata Perché ci sono stati problemi di connessione Comunque non ho battuto il record Ho fatto tipo 7.000 Io direi che possiamo continuare a fare le partite E cercare di battere sto record Perché voglio batterlo in un video Il record Almeno quello voglio farlo Eh purtroppo Qua andiamo lentissimi Nel senso dei moltiplicatori Non parlo di Jake Ok Ok abbiamo un jetpack Piccoletto Ok ottimo Bruzzo di monete assurdo Abbiamo 55 monete Oggetto misterioso Vediamo Buono dai Moltiplicatore Buonissimo Dai Non voglio guardare il punteggio Perché se no Mi metto un po' in ansia Ok Ci vorrebbe anche un bel moltiplicatore monete A volte Ok Me la so rischiata brutta lì Attivo cos'è quell'oggetto Cos'è No Ah va bene Va bene Ok Va benissimo Le stelle vanno benissimo Ehi Una botteglia Là Niente Non ce la fanno a darmi le bottiglie buone Sulla mia strada Intendo Un altro oggetto Ok Tavola casuale Va bene Ci va bene lo stesso Sotto Dai Dai Che siamo immuni Buono Vai Un altro per due Vai 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 Così 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 Ok Ecco Adesso Senza skateboard La situazione Si fa più preoccupante Ok Un altro per due Buono Dai Che ce la facciamo Troppo Ancora un po' Facciamo il record Dai 10.000 Dai Dai Ce la posso fare Dai Jetpack No Ok Sono morì Sono morì Bottiglia Ottimo Alla fine Ci apriamo anche un pacchetto Oh Due pacchetti Ci apriamo Il record Non l'abbiamo ancora fatto Dai Dai Che record L'abbiamo fatto Ormai Dai Dai Sì 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 Oh ma Porche Porche Misericola Sempre sta I semafori O i semafori Non c'entrano niente Ok Vai Vai Ottimo Abbiamo completamente Ristrutto il record Ok Ottimo Anche questo Vai Di qua Di qua Di qua Bu Ste scarpe Quanto le odio Eh Ecco perché le odio Perché Ti fanno andare proprio addosso ai treni Non c'hanno senso Ste scarpe Dovrebbero favorirti Invece non ti favoriscono Che niente Ok Buono Abbiamo distrutto il record Ottimo 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 Dai Dai Sotto Vai Niente ragazzi Siamo Siamo quasi alla fine Mi sa Prima o poi Ci daranno il colpo di Grazia Ottimo Ma raga 20.000 Mica male Insomma È da mezz'ora Che ci sto a giocare Ottimo Sono due anni Che non ci gioco Ok Abbiamo 21.000 Dai Dai Così Ottimo 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 Vai Ottimo salto Ok Buono Vai Vai Non devo morire Non devo morire Assurdo Va bene Ok Comunque Vediamo quanto abbiamo fatto 27.000 Grande Grande E ci apriamo anche due pacchetti Dai Che mi dà Vabbè Chitarra Di Spike Due Chitarre di Spike Tra l'altro Ok Ottimo Perché abbiamo Preso la ricompensa E basta Credo che per oggi sia tutto Io vi ricordo Di mandarmi anche La clip di Subway Surf Perché mi va benissimo La clip di Subway Surf Sul canale Ciao 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 Allora ragazzi Il video è finito Adesso però Passiamo ai saluti Allora io faccio Un gigantesco saluto A Sarabisonin Faccio un altro gigantesco saluto A Ghoston and Four Oppure Ghoston and Four Non so come si pronuncia Lo dice lui sotto nei commenti Faccio Un altro gigantesco saluto A LemonXX A Flanesco 11 E un altro gigantesco saluto A Laura e Daniele Ciao a tutti